Elogio della follia è un saggio scritto da Erasmo da Rotterdam nel 1511. Il lavoro fu redatto, compilato e completato originariamente nel giro di una settimana mentre soggiornava con Tommaso Moro nella residenza di quest'ultimo. Elogio della follia è considerato uno dei lavori letterari più influenti della civiltà occidentale e il catalizzatore della riforma protestante. Inizia con un encomio in forma satirica alla maniera del satirico greco Luciano di Samosata, i cui lavori erano stati recentemente tradotti da Erasmo e Tommaso in latino, un pezzo di sciocchezza virtuosa. Acquisisce dunque un tono più sicuro in una serie di orazioni quando la follia predica di autoingannarsi e a diventare matti e muove verso un esame critico dei pii ma superstiziosi abusi della dottrina cattolica e di alcune pratiche corrotte della chiesa cattolica romana, alla quale peraltro Erasmo era stato sempre fedele. Erasmo era ritornato recentemente deluso da Roma dove aveva rifiutato di essere promosso gerarchicamente nella curia papale e la follia si prende lentamente la voce di rimprovero dello stesso Erasmo. Il saggio finisce con una schietta e commovente dichiarazione sui veri ideali cristiani. Erasmo era un buon amico di Tommaso Moro, un altro fedele cattolico romano e denigratore di Martin Lutero con il quale condivideva una passione per l'umorismo asciutto ed altre preoccupazioni intellettuali. Il titolo Moria encomium può essere anche letto con il significato in elogio di Moro. I doppi o tripli significati si trovano un po' ovunque nel testo. Il saggio, pieno di allusioni classiche, è recapitato con uno stile classico dei dotti umanisti del rinascimento. La follia sfila come uno degli dei, figlia di Plutos e della freschezza e allevata dall'ignoranza e dall'ubriachezza, i cui fedeli compagni includono filautia, vanità, colachia, adulazione, lete, dimenticanza, misoponia, acidia, edonè, piacere, anoia, demenza. Moria encomium diventò molto popolare, per lo stupore ed a volte sgomento di Erasmo stesso. Prima della morte di Erasmo era stato ristampato più volte e tradotto in francese e tedesco, subito dopo ne seguì pure un'edizione inglese. Alcuni giorni fa, tornando dall'Italia in Inghilterra per non sprecare in chiacchiere banali il tempo che dovevo passare a cavallo, preferì riflettere un poco sui nostri studi comuni e godere del ricordo degli amici tanto dotti e cari che avevo lasciato qui. Fra i primi che mi sono tornati alla mente c'eri tu, moro carissimo. Anche da lontano il tuo ricordo aveva il medesimo fascino che esercitava nella consueta intimità la tua presenza, che è stata, te lo giuro, la cosa più bella della mia vita. Visto dunque che ritenevo di dover fare ad ogni costo qualcosa e che il momento non sembrava adatto a una meditazione seria, mi venne in mente di tessere un elogio scherzoso della follia. Ma quale capriccio di pallade ti chiederai ti ha ispirato un'idea del genere? In primo luogo il tuo nome di famiglia tanto vicino al termine moria quanto tu sei lontano dalla follia e ne sei lontano a parere di tutti. Immaginavo inoltre che la mia trovata scherzosa sarebbe piaciuta soprattutto a te, che di solito ti diletti in questo genere di scherzi, non privi, mi sembra, di dottrina e di sale, perché nella vita di tutti i giorni fai in qualche modo la parte di Democrito. Sebbene infatti per singolare acume d'ingegno tu sia tanto lontano dal volgo, con la tua incredibile benevolenza e cordialità puoi trattare familiarmente con uomini d'ogni genere, traendone anche godimento. Quindi non solo accoglierai di buon grado questo mio modesto esercizio retorico per ricordo del tuo amico, ma anche lo prenderai sotto la tua protezione. Dedicato a te non mi appartiene più, è tuo. È probabile infatti che non mancheranno voci rissose di calunniatori ad accusare i miei scherzi, ora di una futilità sconveniente per un teologo, ora di un tono troppo pungente per la mansuetudine cristiana, e grideranno che prendo a modello la commedia antica e il Luciano, mordendo tutto senza lasciare scampo. Vorrei però che quanti si sentono offesi dalla scherzosa levità del mio tema si rendessero conto che non sono l'inventore del genere e che già nel passato molti grandi autori hanno fatto lo stesso. Tanti secoli fa Omero cantò per scherzo la guerra dei topi con le rane, Virgilio la zanzara e la focaccia, Ovidio la noce. Policrate, incorrendo nelle critiche di Ippocrate, fece l'elogio di Busiride. Glaucone quello dell'ingiustizia, favorino di Tersite della febbre quartana, Sinesio della Calvizie, Luciano della mosca e dell'arte del parassita. Sono scherzi l'apoteosi di Claudio scritta da Seneca, il dialogo fra Grillo e Ulisse di Plutarco, l'asino di Luciano e di Apuleio e il testamento, di cui ignoro l'autore, del porcello Grunio Corocotta, menzionato anche da San Girolamo. Lasciamo perciò che certa gente, se crede, vada fantasticando che, per svago a volte, ho giocato a scacchi, o se preferisce, che sono andato a cavallo di un lungo bastone. Certo, è una bella ingiustizia concedere a ogni genere di vita i suoi svaghi e non consentirne proprio nessuno ai letterati, soprattutto poi quando gli scherzi portano a cose serie e gli argomenti giocosi sono trattati in modo che un lettore non del tutto privo di senno può trarne maggior profitto che non da tante austere e pompose trattazioni. Come quando con mucchi di parole si tessono le lodi della retorica o della filosofia, o si fa l'elogio di un principe, o si esorta a fare la guerra ai turchi, mentre qualcuno predice il futuro, o va formulando questioncelle di lana caprina. In realtà, come niente è più frivolo che trattare in modo frivolo cose serie, così niente è più gradevole che trattare argomenti leggeri in modo da dare l'impressione di non aver affatto scherzato. Di me giudicheranno gli altri, eppure se la presunzione non mi acceca completamente, ho fatto sì l'elogio della follia, ma non certo da folle. Quanto poi all'accusa di spirito mordace, rispondo che si è sempre concessa agli scrittori la libertà di esercitare impunemente la satira sul comune comportamento degli uomini, purché non diventasse attacco rabbioso. Per questo mi meraviglia tanto di più la delicatezza delle orecchie d'oggi, che riescono a sopportare ormai solo titoli solenni. In taluni, anzi, trovi una religione così distorta che passano sopra alle più gravi offese a Cristo prima che alla minima battuta ironica sul conto di un pontefice o di un principe. Soprattutto poi se entrano in gioco i loro privati interessi. D'altra parte, uno che critica il modo di vivere degli uomini così da evitare del tutto ogni accusa personale si presenta come uno che morde o non piuttosto come chi ha maestra ed educa. E di grazia non investo anche me stesso con tanti appellativi poco lusinghieri. Aggiungi che chi non risparmia le sue critiche a nessun genere di uomini dimostra di non avercela con nessun uomo, ma di detestare tutti i vizi. Se dunque ci sarà qualcuno che si lamenterà d'essere offeso, sarà segno di cattiva coscienza o perlomeno di paura. Satire di questo genere e molto più libera e mordenti troviamo in San Girolamo, che talvolta fece anche i nomi. Io non solo non ho mai fatto nomi, ma ho adottato un tono così misurato che qualunque lettore avveduto si renderà conto che mi sono proposto la piacevolezza piuttosto che l'offesa. Ne ho seguito l'esempio di Giovenale. Non ho mai smosso lo scuro fondo delle scelleratezze. Ho cercato di colpire quanto è irrisibile piuttosto che le turpitudini. Se poi c'è ancora qualcuno che nemmeno così è contento, ricordi almeno questo, che è bello essere vituperati dalla follia e che avendola introdotta a parlare, dovevo rimanere fedele al personaggio. Ma perché dire queste cose a te, avvocato così straordinario da difendere in modo egregio anche cause non egregie? Addio, eloquentissimo Moro, e difendi con zelo la tua moria. Dalla campagna, 9 giugno 1508 Pag. 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 che si credono proprio degli dèi se, a mode le sanguisughe, mostrano due lingue e considerano una grande impresa, inserire nel discorso latino, come in un intarsio, qualche paroletta greca, che magari era proprio fuori posto. Se poi fanno loro difetto termini esotici, tirano fuori da pergamene ammuffite quattro o cinque termini arcaici con cui rendere oscuro il testo al lettore. Così chi riesce a capire è più soddisfatto di sé e chi non capisce ammira tanto di più quanto meno capisce. Tra gli eletti piaceri dei nostri contemporanei infatti c'è anche questo, esaltare tanto di più una cosa quanto più è straniera. I più ambiziosi ridono e applaudono e come gli asini muovono le orecchie, dando a intendere agli altri di avere capito tutto. È proprio così. Ritorno all'argomento. Il mio nome lo sapete, miei cari. Quale attributo aggiungerò? Quale, se non arcifolli, con quale altro più nobile appellativo potrebbe la dea follia chiamare i suoi iniziati? Ma poiché non a molti sono ugualmente noti i miei maggiori, con l'aiuto delle muse tenterò di parlarne. Non il caos, né l'orco, né Saturno, né Giappeto, né alcun altro di questi dèi decrepiti e fuori moda fu mio padre, ma Pluto, lui solo, il dio della ricchezza, padre degli uomini e degli dèi, con buona pace di Esiodo, di Omero e dello stesso Giove. Un suo cenno, ora come sempre, mette sottosopra cielo e terra. Il suo arbitrio decide della guerra e della pace, degli imperi, dei consigli, dei giudizi, dei comizi, dei matrimoni, dei trattati, delle alleanze, delle leggi, delle arti, delle cose scherzose e di quelle serie. Da lui dipendono tutti gli affari pubblici e privati degli uomini. Senza il suo aiuto, tutta la folla degli dèi, dei poeti e oserò dire, perfino le stesse divinità maggiori o non esisterebbero o vivacchierebbero alla meglio di briciole. Chi incorre nella sua ira, neppure pallade potrebbe aiutarlo, chi invece ne gode il favore potrebbe trarre in catene lo stesso Giove col suo fulmine. Di tale padre io mi glorio, e questo padre non mi generò dal suo cervello, come Giove la fosca e crudele pallade, ma dalla ninfa neotete la giovinezza, di tutte la più graziosa e lieta. E non mi generò nel luggioso vincolo del matrimonio, in cui nacque il famoso fabbro zoppo, ma, ed è molto più dolce, in un amplesso d'amore, come dice il nostro Omero. Ne a scanso di equivoci, mi generò quel Pluto di Aristofane, già mezzo morto e già cieco, ma quello in pieno vigore, fervente di giovinezza, e non solo di giovinezza, ebbero soprattutto di schiettonettere, che aveva generosamente bevuto al banchetto degli dèi. Se poi volete anche sapere dove sono nata, visto che oggi, nel valutare il grado di nobiltà, attribuiscono la massima importanza al luogo dove si sono messi fuori i primi pagiti, ebbene, io non sono nata nell'errante Delo, non tra i flutti del mare, non in grotte profonde, ma proprio nelle isole fortunate, dove tutto cresce senza seme né aratro. Là non esiste fatica, vecchiaie, malattie, nei campi non a sfodeli, malva, squilla, lupini, ofave e simili piante da poco. Da ogni parte ti accarezzano gli occhi e il naso, moli, panacea, nepente, maggiorana, ambrosia, loto, rose, viole, giacinti, i giardini dadone. Nata fra queste delizie, non ho cominciato la vita nel pianto, subito ho sorriso dolcemente a mia madre. Al sommo figlio di Crono non invidio la capretta nutrice, ad allattarmi con le loro mammelle sono state due graziosissime ninfe, Mete lebrezza, figlia di Bacco, e Apedia l'ignoranza, figlia di Pan. Le vedete qui con me, nel gruppo di tutte le altre mie compagne e seguaci delle quali, se per Ercole vorrete sapere i nomi, da me li sentirete solo in greco. Quella che vedete con le sopracciglia inarcate è senz'altro Filautia, quella che sembra ridere con gli occhi e che batte le mani è colacia. Quella mezza addormentata e vinta dal sonno si chiama Lete. Quella appoggiata sui gomiti e con le mani intrecciate si chiama Misoponia. L'altra cinta da un certo di rose e tutta cosparsa di profumi è Doné. Anoia questa, dai mobili sguardi lascivi. Quella dalla pelle splendente e dal corpo rigoglioso si chiama Truffè. Tra le fanciulle potete vedere anche due dei, Como e Ipno, il dio del sonno profondo. Col fedele aiuto di questa mia corte, io signoreggio su tutte le cose e sono sovrana degli stessi sovrani. Vi ho detto origine, educazione, compagni. Ora, perché a qualcuno non paia senza fondamento la mia pretesa al titolo d'idea, drizzate le orecchie e ascoltate di quanta utilità io sia agli dèi e agli uomini e quanto si estenda al mio potere? Se infatti, non senza saggezza qualcuno ha scritto che essere un dio proprio questo significa giovare ai mortali, se a buon diritto sono stati accolti nel consesso degli dèi, coloro ai quali i mortali debbono il vino, il grano e simili beni, perché io non dovrei a buon diritto essere ritenuta e proclamata l'alfa degli dèi, dal momento che io, io sola, sono a tutti prodica di tutto? E' tempo ormai di seguire l'esempio di Omero, lasciando da parte gli dèi e tornare sulla terra per vedere fino a qual punto gioia e fortuna vi si trovino solo per mio dono. In primo luogo, osservate con quanta previdenza la natura, madre e artefice del genere umano, ebbe cura di spargere dappertutto un pizzico di follia. Se infatti, secondo la definizione stoica, la saggezza consiste solo nel farsi guidare dalla ragione, mentre al contrario, la follia consiste nel farsi trascinare dalle passioni perché la vita umana non fosse del tutto improntata a malinconica severità, giove infuse nell'uomo molta più passione che ragione. pressa poco nella proporzione di mezzoncia ad un asse. Relegò inoltre la ragione in un angolino della testa, lasciando il resto del corpo ai turbamenti delle passioni, quindi alla sola ragione contrappose due specie di violentissimi tiranni, l'ira che occupa la rocca del petto e il cuore stesso che è la fonte della vita, e la concupiscenza che estende il suo dominio fino al basso ventre. Quanto valga la ragione contro queste due agguerrite avversarie, ce lo dice a sufficienza la condotta abituale degli uomini. La ragione può solo protestare e lo fa fino a perderci la voce, enunciando i principi morali, ma quelle, rivoltandosi alla loro regina, la subissero di grida odiosa finché lei, prostrata, cede spontaneamente dichiarandosi vinta. Tuttavia, poiché l'uomo, nato per far fronte agli affari, doveva ricevere in dote un po' più di un'oncia di ragione, Giove, per provvedere debitamente, mi convocò perché lo consigliassi, come su tutto il resto, anche a questo proposito. E il mio pronto consiglio fu degno di me, affiancare all'uomo la donna. Animale, sì, stolto e sciocco, ma deliziosamente spassoso, che nella convivenza addolcisce con un pizzico di follia la malinconica gravità del temperamento maschile. Platone, infatti, quando sembra in dubbio circa la collocazione della donna, se fra gli animali razionali o fra i bruti, vuole solo sottolineare la straordinaria follia di questo sesso. E se per caso una donna vuole passare per saggia, ottiene solo di essere due volte folle, come se uno volesse, contro ogni ragionevole proposito, portare un bue in palestra. Infatti raddoppia il suo difetto chi, distorcendo la propria natura, assume sembianza virtuosa. Come, secondo il proverbio greco, la scimmia è sempre una scimmia, anche se si ammanta di porpora, così la donna è sempre una donna. Cioè folle, comunque si mascheri. Non però così folle, voglio credere, da prendersela con me perché la giudico folle, io che sono folle, anzi, la follia in persona. Le donne, infatti, se ponderassero bene la questione, anche questo dovrebbero considerare come un dono della follia il fatto di essere, sotto molti aspetti, più fortunate degli uomini. In primo luogo hanno il dono della bellezza, che giustamente mettono al di sopra di tutto, contando su di essa per tiranneggiare gli stessi tiranni. Quanto all'uomo, di dove gli viene l'aspetto rude, la pelle ruvida, la barba folta e un certo che di senile, se non dalla maledizione del senno. Le donne, invece, con le guance sempre lisce, con la voce sempre sottile, con la pelle morbida, danno quasi l'impressione d'una eterna giovinezza. Ma che altro desiderano poi, in questa vita, se non piacere agli uomini quanto più è possibile? Non mirano forse a questo tante cure, belletti, bagni, acconciature, unguenti, profumi, tante arti volte ad abbellire, dipingere, truccare il volto, gli occhi, la pelle? C'è forse qualche altro motivo che le faccia apprezzare dagli uomini più della follia? Che cosa mai non concedono gli uomini alle donne? Ma in cambio di che, se non del piacere? E il diletto da nient'altro viene, se non dalla loro follia. Che questo sia vero non si può negare, solo che si pensi a tutte le sciocchezze che un uomo dice quando parla con una donna, a tutte le stupidaggini che fa ogni volta che si mette in testa di ottenerne i favori. Ecco da che fonte sgorga il primo e principale diletto della vita. Ma ci sono uomini, specialmente tra i vecchi, che alla donna preferiscono il bere. Per loro il sommo piacere sta nei simposi. Altri pensano che possa esservi un lauto banchetto senza donne, però una cosa è certa, che senza un pizzico di follia non può esservi banchetto ben riuscito. A tal punto che, se non c'è già qualcuno capace di far ridere con la sua follia autentica o simulata, si chiama un buffone a pagamento o un allegro parassita che, con le sue comiche, ossia folli battute, dissipì il silenzio e la noia del simposio. A che scopo infatti riempirsi il ventre di tanti dolciumi, le cornie e ghiottonerie, se anche gli occhi, le orecchie e l'anima intera non si nutrissero di risa, di scherzi, di facezzi. Ma cibi del genere posso amanirli solo io. D'altra parte, anche quei riti conviviali, come sorteggiare il re del convito, giocare ai dadi, invitare al brindisi, gareggiare intorno ad un tavolo a cantare e bere a turno, passarsi il mirto cantando, ballare, far pantomime, non sono stati inventati dai sette sapienti della Grecia, ma da me, per la felicità dell'umana specie. Tutte le cose di questo genere hanno un tratto comune, che quanto più partecipano della follia, tanto più rallegrano la vita dei mortali che, se fosse triste, neanche meriterebbe di essere chiamata vita. E triste risulterà senz'altro, se non le toglierai di dosso, l'ennato tedio con questo tipo di divertimenti. Forse taluni trascureranno anche questo genere di piacere e saranno paghi dell'amore e della familiarità degli amici, affermando che l'amicizia vale più di tutto. L'amicizia. Un bene non meno necessario dell'aria, del fuoco, dell'acqua. Tanto soave che se togli l'amicizia togli il sole. Infine è tanto nobile, ammesso che la cosa ci riguardi, che gli stessi filosofi non esitano a ricordarla fra i beni fondamentali. Ma che succede se dimostro che anche di questo bene così grande sono io la poppa e la prora? Io lo dimostrerò non col sofisma del coccodrillo, non coi soliti cornuti o con altre simili dialettiche sottigliezze, ma alla buona, facendovi toccare la cosa con mano. Or bene, chiudere gli occhi, ingannarsi, essere ciechi, illudersi a proposito dei difetti degli amici, amarne e apprezzarne come qualità alcuni dei vizi più evidenti, non è forse qualcosa di molto vicino alla follia. C'è chi bacia al neo dell'amica. Chi trova incantevole il polipo di Agna? Il padre dice del figlio strabico che ha il vezzo di ammiccare. Tutto questo io domando, che è se non pura follia? ripetano a gran voce che è follia, eppure essa sola è capace di promuovere e cementare le amicizie. Parlo dei comuni mortali, nessuno dei quali nasce senza difetti, il migliore è chi ne ha meno, quanto poi a quei famosi saggi che hanno il piglio di dei, tra loro l'amicizia o non nasce affatto, o è qualcosa di cupo e scostante, limitata poi a pochissimi, non oso dire che non include proprio nessuno, perché la maggior parte degli uomini ha un pizzico di follia, anzi, non ce n'è nessuno che in un modo o in un altro non abbia le sue stranezze e non c'è amicizia se non tra persone simili. Se infatti tra questi uomini austeri si desse una volta uno scambievole affetto, non sarebbe per nulla stabile e durerebbe ben poco, nascendo tra uomini difficili e più oculati del necessario, capaci di cogliere i difetti degli amici con l'occhio acuto dell'aquila e del serpente di epidauro. Quando però si tratta dei loro difetti, come ci vedono poco e come ignorano la parte della bisaccia che portano dietro le spalle. Perciò, dato che la natura dell'uomo è tale che nessuno è immune da gravi difetti, aggiungi la grande varietà di caratteri e di studi, le tante cadute, i tanti errori, i tanti casi della vita mortale, come potranno questi arghi gustare anche solo per un'ora le gioie dell'amicizia se non interverrà quella che i greci chiamano eueteia, termine felice da tradursi con follia o con indulgente semplicità. Del resto, non è forse del tutto cieco quel cupido che è artefice padre di ogni legame? E come il brutto gli appare bello, così fa in modo che anche a ciascuno di voi sembri bello ciò che gli è toccato in sorte, che il vecchio ami la sua vecchia e il ragazzo la sua ragazza? Sono cose che accadono a ogni piesso spinto e che muovono il riso. Eppure, sono proprio queste cose ridicole il fondamento di una società che vive con gioia. Quanto si è detto dell'amicizia, a maggior ragione vale per il matrimonio, che altro non è se non un legame per la vita tra singoli individui? Dio immortale, quanti divorzi o fatti anche peggiori dei divorzi non si avrebbero dappertutto se la domestica convivenza del marito con la moglie non si rafforzasse, nutrendosi di adulazioni, di scherzi, di indulgenza, di errori, di dissimulazioni? Tutte cose che appartengono al mio seguito. Quanti matrimoni ci sarebbero se il fidanzato saggiamente si informasse dei passatempi a cui già molto prima delle nozze si dedicava la sua verginella, così delicata è pudica in apparenza? E, a celebrazione avvenuta, quanti ne durerebbero se tante imprese delle mogli non rimanessero ignorate per la negligenza e la sciocchezza dei mariti? E anche questo ha buon diritto ad attribuirsi alla follia a cui si deve se il marito ama la moglie e la moglie il marito, se in casa regna la pace, se il vincolo dura. Si ride del cornuto, del cervo e quanti altri nomi non gli si danno quando asciuga coi baci le lacrime dell'adultera. Ma quanto meglio lasciarsi ingannare, così che rodersi di gelosia e volgere tutto in tragedia. Insomma, senza di me nessuna società, nessun legame potrebbe durare felicemente. Il popolo si stancarebbe del principe, il servo del padrone, la serva della padrona, il maestro dello scolaro, l'amico dell'amico, la moglie del marito, il locatore del locatario, il compagno del compagno, l'ospite dell'ospite. Se volta a volta non si ingannassero a vicenda, ora adulandosi, ora facendo saggiamente finta di non vedere, ora allusingandosi col miele della follia. So che queste vi sembrano enormità, ma ne sentirete di più belle. Di grazia, chi odia se stesso come potrà amare qualcuno? Chi è interiormente combattuto potrà forse andare d'accordo con altri? Potrà, chi è sgradito e molesto a se stesso, riuscire gradevole a un altro? Nessuno, credo, lo affermerebbe se non fosse un pazzo più pazzo della follia stessa. Pertanto, se non ci fossi più io, lungi dal sopportare il prossimo, ognuno, in viso a se stesso, proverebbe disgusto di sé e delle sue cose. La natura, infatti, in molte cose matrigna piuttosto che madre, ha posto nell'animo dei mortali, soprattutto se appena più intelligenti, il seme di questo male, scontento di sé e ammirazione per gli altri. Di qui il venir meno e l'estinguersi di tutte quelle squisite doti che sono il profumo della vita. A che giova, infatti, la bellezza, il massimo dono degli dèi immortali se deve essere lasciata sfiorire? A che la giovinezza se deve intristire per il veleno di senili malinconie? Infine, in tutti i casi della vita, come potrai agire in modo conveniente nei tuoi o negli altrui confronti, agire come conviene, non è solo la prima regola dell'arte, ma di tutta la nostra condotta, se non ti sarà propizia filautia, che a buon diritto tengo in conto di sorella, tanto validamente mi presta al suo aiuto in ogni occasione. Se piace a te stesso, se ti ammiri, questo è proprio il colmo della follia, ma d'altra parte, dispiacendo a te stesso, che cosa potresti fare di bello, di gradevole, di nobile? Toglie alla vita l'amor proprio e subito la parola suonerà fredda sulle labbra dell'oratore, il musicista non piacerà a nessuno con le sue melodie, l'attore si farà fischiare con la sua mimica, il poeta e le sue muse saranno irrisi, sarà tenuto a vile il pittore con la sua arte, si ridurrà alla fame il medico con le sue medicine. Alla fine, invece di Nireo, sembrerai Tersite, invece di Faone, Nestore, invece di Minerva, una scrofa, invece di un forbido oratore, uno che non balbetta neanche una parola, invece di un distinto cittadino, un rozzo contadino. Se vuoi poter essere raccomandato agli altri, devi proprio cominciare col raccomandarti a te stesso, devi essere il primo a lodarti, e non senza una punta di adulazione. Infine, poiché la felicità consiste soprattutto nel voler essere ciò che si è, qui interviene col suo aiuto la mia filautia, facendo in modo che nessuno sia scontento del proprio aspetto, carattere, schiatta, posizione, educazione. Patria! Tanto che né un irlandese si cambierebbe con un italiano, né un traccio con un ateniese, né un'uscita con un abitante delle isole fortunate. O singolare bontà della natura, che in tanta varietà di cose stabilì un regime di uguaglianza, dove scarseggia coi suoi doni, là è solita aggiungere una dose maggiore di amor proprio. Ma che sciocchezza, ho detto, proprio questo è il più grande dei suoi doni. Ora dovrei aggiungere che nulla di grande si può intraprendere senza la mia spinta, perché è a me che si deve l'invenzione di ogni nobile arte. Forse che non sia la guerra la fonte e il coronamento di ogni celebrata impresa, e che c'è di più pazzesco dell'impegnarsi per non so quali cause in un confronto da cui immancabilmente ognuna delle due parti trae più danno che guadagno. Dei caduti, poi, neanche si parla, quasi fossero gente di Megara. Quando le schiere in armi si fronteggiano e le trombe intonano il loro rauco suono, a che servono di grazia i sapienti esauriti dagli studi col loro sangue povero e privo di calore, e che a malapena tirano il fiato. C'è bisogno di gente ben piantata, con moltissima audacia e pochissimo cervello, a meno che non si preferisca ruolare de mostene, tanto vile soldato quanto grande oratore, che, seguendo il consiglio di archiloco, appena vide il nemico, fuggì abbandonando lo scudo. La prudenza obiettano in guerra a grandissimo peso. Lo riconosco, ma lo ha in chi comanda e si tratta di prudenza militare, non filosofica. Per il resto, l'impresa tanto egregia della guerra è affidata a parassiti, ruffiani, briganti, sicari, contadini, imbecilli, debitori e altri rifiuti del genere, non a filosofi da tavolino. Della cui totale inutilità sul piano pratico è testimone lo stesso Socrate, che l'oracolo d'Apollo giudicò con poco senno del resto, il solo sapiente, quando tentò di impegnarsi in non so quale faccenda pubblica, fu costretto a ritirarsi fra il generale di leggio. Anche se, del tutto sciocco, non si dimostrò quando rifiutò il titolo di sapiente che attribuì solo a Dio e quando sostenne che il saggio non deve occuparsi di politica e meglio avrebbe fatto a consigliare di tenersi lontani dalla sapienza se si vuol vivere da uomini. D'altra parte, quando fu processato, che cosa se non la sapienza lo costrinse a bere la cicuta? Infatti, mentre andava filosofando di idee e di nuvole, mentre misurava il salto delle pulci, mentre ammirava la voce delle zanzare, non imparava nulla di ciò che riguarda la vita di tutti i giorni. In aiuto del maestro, sull'orlo di una condanna capitale, interviene il discepolo Platone, difensore così egregio che, turbato dal rumoreggiare della folla, a malapena riesce a pronunciare qualche frase smuzzicata. E che dire di Teofrasto? Come avrebbe mai potuto animare i soldati in guerra lui che, levato sia a parlare, ammutolì di colpo come se d'improvviso avesse visto un lupo? Isocrate, pavido per natura, non osò mai aprire bocca. Marco Tullio, il padre della romana eloquenza, abitualmente, preso da poco dignitoso tremore, esordiva balbettando come un ragazzino. Quintiliano, vede in questo la prova dell'oratore di valore, che misura le difficoltà. Ma non farebbe meglio a dire che la sapienza è un ostacolo a condurre in porto le faccende pratiche? Che faranno costoro quando si dovrà ricorrere alle armi, se si perdono d'animo così quando si combatte semplicemente a parole? Nonostante questo, a Dio piacendo, si esalta il famoso detto di Platone che fortunati saranno gli stati se a reggerli saranno chiamati filosofi o se i reggitori si daranno alla filosofia. Se invece consulterai gli storici, troverai che il concentrarsi del potere nelle mani di un filosofastro o di un letterato è la peggiore sciagura che possa colpire uno stato. E mi pare lo attestino bene i due catoni, uno dei quali turbò la pace della Repubblica Romana con le sue pazze denunce, l'altro, mentre difendeva con un eccesso di saggezza la libertà del popolo romano, la mise del tutto a soccuadro. Aggiunge a questi i bruti, i cassi, i gracchi e Cicerone stesso che allo stato romano fece tanto male quanto Demostene a quello ateniese, quanto a Marco Antonio. Ammesso che fosse un buon imperatore, potrei contestarlo, perché, dedito come era la filosofia, per questa stessa fama si era fatto prendere a noia dai concittadini, ammesso tuttavia che lo fosse, certamente lasciando dietro di sé e il figlio che lasciò danneggiò lo stato più di quanto non gli avesse giovato col suo governo. Questa categoria, infatti, di uomini dediti allo studio della filosofia di solito ha pochissima fortuna in ogni cosa, ma soprattutto nei figli che mette al mondo. Penso sia alla provvidenza della natura a volere impedire che questo malanno della filosofia si diffonda più largamente fra gli uomini. Così risulta che Cicerone ebbe un figlio de genere e che Socrate, il famoso filosofo, ebbe figli, come è stato scritto non del tutto a torto, più simili alla madre che al padre, e cioè stolti. Comunque, se fossero come asini davanti a una lira solo riguardo ai pubblici affari, ci si potrebbe passare sopra. Il guaio è che sono altrettanto incapaci in ogni altra occasione della vita. Invita a pranzo un sapiente, disturberà col suo cupo silenzio o con le sue noiose questioncelle. Invitalo alla danza. Diresti che balla come un cammello, portalo ad uno spettacolo. Basterà la sua espressione a guastare il divertimento alla gente e, come il saggio Catone, sarà costretto a lasciare il teatro perché non può spianare il cipiglio. Se per caso capiterà durante una conversazione, sarà come il lupo della favola. Se c'è da fare un acquisto, un contratto, insomma, qualcuna delle cose indispensabili alla vita di ogni giorno, questo sapiente ti sembrerà un pezzo di legno, non un uomo. A tal punto è incapace di rendersi utile a se stesso, alla patria, ai suoi, perché inesperto delle faccende usuali e perché tanto lontano dal giudizio corrente e dalle accettate consuetudini. Quindi, per forza, si fa anche odiare, per questa sua grande diversità di vita e di intendimenti. Tra i mortali, infatti, che cosa mai si fa che non trabocchi di follia e che non sia opera di folli in un mondo di folli? Perciò, se qualcuno volesse opporsi da solo a tutti, io gli consiglierei di ritirarsi come timone in un deserto per godervi da solo la propria saggezza. Ma per tornare all'argomento proposto, quale forza, se non l'adulazione, raggruppò nella città quegli uomini primitivi simili ai sassi e alle querce? Questo solo vuole indicare la famosa cetra di Anfione e di Orfeo. Cosa mai riportò alla concordia cittadina alla plebe romana che già stava per spingersi ad atti irreparabili? Forse un discorso filosofico? Nemmeno per sogno. Al contrario, fu il ridicolo e puerile apologo del ventre e delle altre membra. Altrettanto si dica dell'analogo apologo di Temistocle, della volpe e del riccio. E quale discorso di un sapiente avrebbe potuto raggiungere l'efficacia della famosa cerva immaginata da Sertorio? O della trovata dei due cani? Dello spartano Licurgo? O dell'altra ridicola storia, sempre di Sertorio, sul modo di strappare i peli dalla coda del cavallo? Per non parlare di Minosse e di Numa. Entrambi governarono la stolta moltitudine con invenzioni favolose e con simili sciocchezze che si fa presa su quella grossa e potente bestia che è il popolo. Viceversa, quale città ha mai fatto sue le leggi di Platone e di Aristotele o i precetti di Socrate? Che cosa persuase i deici a votarsi spontaneamente agli dei mani? Che cosa trascinò nella voragine Quinto Curzio se non la vanagloria? Dolcissima sirena, ma quanto esecrata dai sapienti? Che c'è, infatti, di più sciocco, dicono, di un candidato che losinga al popolo in tono supplichevole, che compra i voti, che va in cerca degli applausi di tanti stolti, che si compiace delle acclamazioni, che si fa portare in giro in trionfo come una statua da mostrare al popolo che fa collocare nel foro il proprio simulacro di bronzo. Aggiungi la sfilza dei nomi e dei soprannomi, gli onori divini tributati a un uomo insignificante, il fatto che si dà il caso di tiranni scelleratissimi, elevati con pubbliche cerimonie alla gloria dell'Olimpo. Sono autentiche manifestazioni di follia e per riderci sopra non basterebbe un solo democrito. Chi lo nega? Tuttavia, proprio di qui sono nate le grandi imprese degli eroi levate al cielo dall'opera di tanti letterati. Questa follia genera le città, su di essa appoggiano i governi, le magistrature, la religione, le assemblee, i tribunali. La vita umana non è altro che un gioco della follia. Quanto poi alle arti, cosa mai, se non la sete di gloria, ha suscitato nell'animo umano la brama di inventare e tramandare ai posteri tante discipline ritenute nobili? Furono uomini davvero stoltissimi quelli che hanno creduto valesse la pena di conquistare a prezzo di tante faticose veglie quella fama di cui niente può essere più vano. Ma intanto voi dovete alla follia tante cose e così egregie della vita e ciò che soprattutto conta, la follia altrui fa la vostra cuccagna. c'è ora qualcosa di cui stupirsi se, dopo essermi attribuita la fortezza e l'operosità, rivendicherò anche la saggezza. Qualcuno potrebbe dire che è come accoppiare l'acqua e il fuoco, eppure credo che riuscirò anche in questo, purché voi, come prima, mi prestiate benevola attenzione. In primo luogo, se la saggezza si fonda sull'esperienza, a chi meglio conviene freggiarsi dell'appellativo di saggio? Al sapiente che, parte per modestia, parte per timidezza, nulla intraprende, o al folle che, nel pudore di cui è privo, nel pericolo che non misura, distolgono da qualche cosa? Il sapiente si rifugia nei libri degli antichi e ne trae solo sottigliezze verbali. Il folle affronta da vicino le situazioni coi relativi rischi e così acquista, se non erro, la saggezza. Cosa acquista che sembra aver visto, benché cieco o mero, quando dice il folle capisce i fatti. Sono due, infatti, i principali ostacoli alla conoscenza delle cose, la vergogna che offusca l'animo e la paura che, alla vista del pericolo, distoglie dalle imprese. La follia libera da entrambe, non vergognarsi mai e osare tutto. Pochissimi sanno quale messi di vantaggine derivi, perché se preferiscono attingere quella sapienza che consiste nel saper giudicare delle cose, state a sentire, vi prego, quanto ne sono lontani coloro che si spacciano per sapienti. In primo luogo, come noto, tutte le cose umane a guisa dei sileni di Alcibiade hanno due facce affatto diverse, a tal segno che sulla faccia esteriore, come dicono, vedi la morte mentre, se guardi dentro, scopri la vita. E viceversa, al posto della vita scopri la morte, al posto del bello il brutto, della ricchezza alla miseria, dell'infamia alla gloria, della dottrina all'ignoranza, del vigore e la debolezza, della generosità all'abiezione, della letizia alla malinconia, della prosperità alla sventura, dell'amicizia all'inimicizia, del salutare il nocivo. In breve, se apri il sileno, trovi di tutte le cose l'opposto. Se poi qualcuno giudica troppo filosofico questo discorso, mi spiegherò come suol dirsi più alla buona. Chi negherà che un re è ricco e potente? Eppure, se manca del tutto dei beni dell'animo, se non è mai contento di nulla, è davvero il più povero di tutti? Se poi il suo animo è una sentina di vizi, è addirittura uno schiavo a abietto. Lo stesso ragionamento si potrebbe fare anche per gli altri, ma accontentiamoci dell'esempio proposto. A che scopo? Domanderà qualcuno. State a sentire dove voglio arrivare. Se uno tentasse di strappare la maschera agli attori che sulla scena rappresentano un dramma mostrando agli spettatori la loro autentica faccia, forse che costui non rovinerebbe lo spettacolo meritando di essere preso da tutti a sassate e cacciato dal teatro come un forsennato? Di colpo tutto muterebbe aspetto al posto di una donna o un uomo al posto di un giovane o un vecchio che prima era un re d'improvviso diventa uno schiavo che era un dio ad un tratto appare un uomo da nulla. Dissipare l'illusione significa togliere senso all'intero dramma. A tenere avvinti gli sguardi degli spettatori è proprio la finzione il trucco. L'intera vita umana non è altro che uno spettacolo in cui chi con una maschera chi con un'altra ognuno recita la propria parte finché ad un cenno del capo comico abbandona la scena. Costui tuttavia spesso lo fa recitare in parti diverse in modo che chi prima si presentava come un re ammantato di porpora compare poi nei cenci di un povero schiavo. certo sono tutte cose immaginarie ma la commedia umana non consente altro svolgimento. A questo punto se un sapiente caduto dal cielo si levasse d'improvviso a gridare che il personaggio a cui tutti guardano come a un dio e a un potente non è neppure un uomo perché come le bestie si lascia dominare dalle passioni che spontaneamente ha servito a padroni così numerosi e turpi e l'ultimo degli schiavi e se ad un altro che piange il padre morto ordinasse di ridere perché il padre finalmente ha cominciato a vivere dato che questa vita altro non è che morte e se chiamasse plebeo e bastardo un terzo che mena vanto di una nobile nascita ma che è ben lontano dalla virtù unica fonte di nobiltà se allo stesso modo parlasse di tutti gli altri non agirebbe costui proprio in modo da sembrare a tutti pazzo da legare nulla di più stolto di una saggezza intempestiva nulla di più fuori posto del buonsenso alla rovescia agisce appunto contro il buonsenso chi non sa adattarsi al presente chi non adotta gli usi correnti e dimentica persino la regola conviviale o bevi o te ne vai e vorrebbe che una commedia non fosse più una commedia invece per un mortale è vera saggezza non voler essere più saggio di quanto gli sia concesso in sorte far buon viso all'andazzo generale e partecipare di buon grado alle umane debolezze ma dicono proprio questo è follia non lo contesterò purché riconoscano in cambio che questo è recitare la commedia della vita quanto al resto dei immortali parlerò o tacerò e perché mai dovrei tacere cose più vere della verità ma forse in così grave frangente meglio sarebbe chiamare in aiuto dalle licone alle muse che i poeti sono soliti invocare anche troppo spesso per vere sciocchezze assistitemi dunque per un poco figli di Giove finché non dimostri che nessuno senza la guida della follia può accedere alla sapienza a quella che chiamano la rocca della felicità in primo luogo è pacifico che tutte le passioni rientrano nella sfera della follia ciò che distingue il sabio dal pazzo è che questi si fa guidare dalle passioni mentre il primo ha per guida la ragione perciò gli stoici spogliano il sapiente di tutte le passioni come fossero delle malattie tuttavia questi elementi emotivi non solo assolvono la funzione di guide per chi si affretta verso il porto della sapienza ma nell'esercizio della virtù vengono sempre in aiuto spronando e stimolando come forze che esortano al bene anche se qui fieramente leva la sua protesta a Seneca col suo stoicismo integrale negando al sapiente ogni passione ma così facendo distrugge anche l'uomo e crea al suo posto un dio di nuovo genere che non è mai esistito e non esisterà mai anzi per parlare ancora più chiaro scolpisce la statua di un uomo di marmo privo di intelligenza e di qualunque sentimento umano perciò se lo desiderano si godano pure il loro saggio che potranno amare senza rivali e dimorino con lui nella repubblica di Platone o se preferiscono nel mondo delle idee o nei giardini di Tantalo chi infatti non sfuggirà con orrore come spettro mostruoso un uomo così fatto sordo ad ogni naturale richiamo incapace d'amore o di pietà come una dura selce o una rupe marpesia un uomo cui non sfugge nulla che non sbaglia mai ma che con l'occhio acuto di linceo tutto vede tutto pesa con assoluta precisione nulla perdona solo di sé contento lui solo ricco lui solo sano lui solo re lui solo libero per dirla in breve lui solo tutto e solo a suo giudizio senza amici pronto a mandare all'inferno gli stessi dei e che condanna come insensato e risibile tutto ciò che si fa nella vita eppure quel perfetto sapiente è proprio un animale fatto così ma di grazia se si dovesse decidere con i voti quale città lo vorrebbe come magistrato quale esercito lo designerebbe come capo quale donna vorrebbe o sopporterebbe un simile marito quale anfitrione un simile convitato quale servo un padrone con questi costumi chi non preferirebbe un uomo qualunque uno della folla dei pazzi più segnalati che pazzo com'è possa comandare o obbedire ad altri pazzi attirando la simpatia dei suoi simili che poi sono tanti gentile con la moglie gradito agli amici buon commensale uno con cui si possa convivere che infine non ritenga estraneo a sé niente di ciò che è umano ma ormai del sapiente ne ho abbastanza perciò torniamo a parlare degli altri vantaggi che offro supponiamo che potendo spaziare da una specola sublime con lo sguardo tutto attorno come secondo i poeti fa giove uno veda quante avversità minaccino la vita quanto infelice e miserabile sia la nascita quanto faticosa l'educazione e tutte le offese cui va incontro la fanciullezza tutti gli affanni della gioventù e come è pesante la vecchiaia come amara la fatale morte tutta la schiera delle malattie dei vari accidenti l'incalzare delle contrarietà nulla mai che sia immune da un amaro veleno per non dire di quei mali che l'uomo subisce dall'uomo come la povertà la prigionia l'infamia la vergogna la tortura le insidie il tradimento le ingiurie i processi le frodi ma dire tutto è come mettersi a contare i granelli di sabbia certo non spetta a me dire qui per quali colpe gli uomini abbiano meritato questa sorte o quale dio irato li abbia costretti a nascere tanto infelici chi rifletta a tutto questo non sarà forse portato ad approvare l'esempio pur così penoso delle vergini di Mileto e quali sono soprattutto gli uomini che per disgusto della vita si sono dati la morte non sono forse quelli che alla sapienza si erano accostati di più tralasciando diogene senocrate i catoni i cassi i bruti prendiamo il famoso chirone che potendo diventare immortale preferì cercare spontaneamente la morte credo vi sia chiaro che cosa accadrebbe se la sapienza si diffondesse sarebbe necessario altro fango e un secondo prometeo capace di plasmare altri uomini io invece puntando ora sull'ignoranza e ora sulla spensieratezza a volte facendo dimenticare i malanni a volte suscitando speranze di cose favorevoli esaltando i piaceri con qualche stilla di miele in così grandi malanni sono così soccorrevole che nessuno vuole lasciare la vita neppure quando il filo delle parche è già esaurito e la vita stessa viene meno anzi chi ha minori motivi di restare in vita tanto più ama vivere tanto è lontano dall'essere comunque spiorato dal tedio della vita si deve certo a me se si vedono in giro tanti vecchi annosi quanto nestore vecchi che non hanno più neppure volto d'uomo balbuzienti svaniti sdentati canuti calvi o per dirla con aristofane lerci curvi miseri rugosi senza capelli senza denti lascivi mata al segno amanti della vita e tanto inclini a fare i giovinetti che ora si tingono i capelli ora nascondono la calvizie con una parrucca e ora si servono di denti presi a prestito magari da un porco mentre c'è tra loro chi si strugge d'amore per una fanciulla e in fatto di amorose sciocchezze da punti anche a un ragazzino che vecchi rammolliti già pronti per il cataletto sposino giovinette anche se prive di dote destinate a fare la gioia di altri e cosa ormai così frequente da costituire quasi motivo di banto ma nulla c'è di più spassoso di certe vecchie praticamente già morte tanto sono decrepite a tal punto cadaveriche da sembrare reduci dagli inferi ma che hanno sempre sulle labbra al ritornello la vita è bella fanno ancora le vezzose mandano sentore di capra come dicono i greci conquistano a caro prezzo un qualche faune si imbellettano di continuo stanno sempre allo specchio si spoltiscono i peli del pube ostentano le vecchie mammelle abbizzite sollecitano con tremoli mugolii il desiderio che vi è meno bevono si inseriscono nelle danze delle fanciulle scrivono bigliettini amorosi sono cose di cui tutti ridono come di indubbie follie e danno ragione ma loro le vecchie sono tanto contente di sé nuotano in un mare di delizie gustano dolcezze senza fine sono felici e tutto per merito mio vorrei che chi giudica queste cose degne di irrisione riflettesse un po' è meglio trascorrere nella follia una vita colma di dolcezza o andare cercando come suol dirsi una trave a cui impiccarsi che la loro condotta sia giudicata comunemente vergognosa ai miei pazzi non importa proprio nulla nemmeno se ne accorgono o se ne hanno sentore non ne tengono nessun conto prendersi un sasso in testa questo sì che fa male la vergogna l'infamia il disonore le offese nuocciano nella misura in cui fanno soffrire per chi non se la prende non sono neppure un male che ti importa se tutti ti fischiano se tu ti applaudi che questo ti sia possibile lo devi alla sola follia mi pare di sentire protestare i filosofi l'infelicità dicono è proprio qui nell'essere prigionieri della follia sbagliare vivere nell'inganno nell'ignoranza ma essere uomo è appunto questo né riesco a capire perché parlino di infelicità così siete nati educati formati questa è la sorte comune a tutti nessuno è infelice quando è in armonia con la propria natura a meno di compiangere l'uomo perché non può volare con gli uccelli né camminare a quattro zampe con gli altri mammiferi o perché a differenza dei tori non è armato di corna da tal punto di vista chiameremo infelice anche un bellissimo cavallo perché non sa di grammatica e non mangia dolciumi infelice il toro in quanto negato agli esercizi della palestra in realtà come non è infelice il cavallo che ignora la grammatica così non è infelice l'uomo per la sua follia che è conforme alla sua natura ma ecco che quegli esperti del ragionamento tortuoso tornano alla carica è dono peculiare dell'uomo dicono la conoscenza scientifica di cui si serve per compensare con l'ingegno ciò che la natura gli ha negato come se fosse verosimile che la natura così sollecita nei confronti delle zanzare e perfino delle erbette dei fiorellini avesse tirato via solo nella creazione dell'uomo rendendogli necessarie quelle scienze che Teot col suo genio ostile al genere umano inventò per nostra sommagliattura tanto inadatte a renderci felici che anzi contrastano con il loro presunto fine come con eleganza sostiene in Platone un re molto saggio a proposito dell'invenzione dell'alfabeto le scienze dunque sono penetrate fra gli uomini insieme alle altre calamità della vita mortale per opera di coloro da cui partono tutti i malanni i demoni che ne hanno anche derivato il nome in greco demones ossia coloro che sanno la gente semplice dell'età dell'oro del tutto priva di dottrina viveva sotto l'unica guida della natura e dell'istinto che bisogno c'era della grammatica quando tutti parlavano la stessa lingua e nient'altro si chiedeva se non di capirsi l'un l'altro a che la dialettica se non c'era contrasto di opposte posizioni a che la retorica se nessuno intentava cause al prossimo e che bisogno c'era della giurisprudenza se non c'erano quei cattivi costumi che senza dubbio hanno fatto nascere le buone leggi erano troppo religiosi per scrutare con empia curiosità i misteri della natura la grandezza i moti gli influssi delle stelle le cause riposte delle cose giudicando vietato ai mortali il tentativo di conoscere più di quanto era loro concesso lo stolto desiderio di andare a cercare cosa ci fosse di là dal cielo non passava neppure per la mente col graduale esaurirsi dell'età dell'oro dapprima come ho detto dai demoni del male furono inventate le scienze ma poche e limitate a pochi poi i caldei con la loro superstizione e quei perdigiorno dei greci coi loro interessi sbagati moltiplicarono a dismisura queste autentiche torture della mente con la sola grammatica ce ne sarebbe già di troppo per il tormento di una vita intera tuttavia tra queste scienze le più pregiate sono le più vicine al senso comune cioè alla follia i teologi fanno la fame i fisici soffrono il freddo gli astrologi sono derisi i dialettici non contano nulla mentre un solo medico vale quanto molti uomini in questa professione quanto più uno è ignorante avventato leggero tanto più è considerato dagli stessi principi con tanto di corona in testa la medicina infatti specialmente come viene esercitata oggi dai più si riduce come la retorica ha una forma di adulazione il secondo posto con un brevissimo stacco spetta i legulei e starei per dire il primo la loro professione per non esprimere pareri personali è irrisa per lo più dai filosofi fra il generale consenso come un'arte da asini tuttavia gli affari dai più grandi ai più piccoli sono a discrezione di questi asini i loro latifondi si estendono mentre il teologo dopo essersi documentato su tutti gli aspetti della divinità rosicchia lupini impegnato in una guerra continua con cimici e pidocchi ma se le arti più fortunate sono quelle più affine alla follia più fortunati fra tutti sono coloro che riescono a tenersi lontani da qualunque disciplina per seguire la sola guida della natura che in nessuna parte è manchevole a meno che non pretendiamo di oltrepassare i confini della nostra sorte mortale la natura odia gli artifici fortunato chi è rimasto immune dalla contaminazione delle arti orsù non vedete che fra le varie specie animali se la passano meglio di tutte proprio le più lontane dalle arti quelle che hanno per unica maestra e guida la natura che c'è di più felice o mirabile delle api e dire che non hanno neppure tutti i sensi come potrebbe un architetto realizzare qualcosa di simile alle loro costruzioni quale filosofo mai fondò una repubblica come la loro il cavallo invece poiché è simile all'uomo dal punto di vista dei sensi ed è diventato suo compagno e anche partecipe delle umane calamità non dirà vergognandosi di perdere in gara si spianca nella corsa in guerra assetato di vittoria viene colpito e morde la polvere insieme al cavaliere per non parlare del morso degli sproni aguzzi della stalla dove quasi prigioniero del frustino del bastone delle redini del cavaliere per dirla in breve di tutta la tragica schiavitù a cui si è votato spontaneamente nel tentativo di vendicarsi a ogni costo del nemico emulando gli eroi quanto più invidiabile la condizione delle mosche degli uccellini che vivono alla giornata obbedendo solo al naturale istinto sempre che lo consentano le insidie degli uomini gli uccelli infatti chiusi in gabbia e ammaestrati a imitare la voce umana quanto si allontanano dal primitivo splendore a tal segno sotto tutti i rispetti il prodotto di natura è migliore di quello che l'arte ha adulterato perciò non loderò mai abbastanza al gallo in cui si reincarnò Pitagora che essendo stato tutto filosofo uomo donna re principe privato cittadino pesce cavallo rana e credo anche spugna nessun animale tuttavia giudicò più disgraziato dell'uomo perché mentre tutti gli altri sono contenti dei loro limiti naturali soltanto l'uomo tenta di oltrepassare i confini della sua condizione e tra gli uomini sotto molti punti di vista antepone il semplice ai dotti e ai grandi molto più saggio di Ulisse simbolo della scaltrezza Grillo che preferì grugnire in un porcile piuttosto che andare con lui incontro a tante calamità mi pare la pensi così anche a Omero padre delle favole che mentre di continuo dice gli uomini miseri e travagliati e a più riprese chiama infelice Ulisse con la sua proverbiale avvedutezza non usa mai questo termine parlando di Paride o di Ajace o di Achille perché mai soltanto perché quell'astuto inventore di trucchi agiva solo sotto la spinta di pallade e quanto mai sordo a ogni richiamo della natura era tutto cervello perciò i più lontani dalla felicità sono tra i mortali quelli che aspirano alla sapienza doppiamente stolti perché dimentichi della loro condizione di uomini si atteggiano a dei immortali e a somiglianza dei giganti dichiarano guerra alla natura valendosi di ordigni costruiti dalla loro perizia i meno infelici invece sembrano quelli che restano più vicini all'istinto e alla stupidità dei bruti né tentano mai di oltrepassare le capacità dell'uomo proverò anche a dimostrarlo e non con gli intimemi degli stoici ma con qualche esempio alla portata di tutti per gli dèi immortali vi è forse al mondo qualcosa di più felice di quella specie di uomini chiamati volgarmente scimuniti stolti fatui sciocchi appellativi a mio parere onorevolissimi dirò anzi una cosa che se a prima vista può sembrare una sciocchezza ed un'assurdità in fondo è di una verità indiscutibile loro innanzitutto non hanno paura della morte male per giove non trascurabile non li tormentano rimorsi di coscienza non li turbano le storie degli spiriti dei defunti non hanno paura delle apparizioni non si cruciano per il timore di mali incombenti non entrano in ansia nella speranza di beni futuri insomma non sono in balia dei mille affanni a cui è esposta la nostra vita ignorano la vergogna il timore l'ambizione l'invidia l'amore infine chi più si avvicina alla stupidità dei bruti ne sono garanti teologi è anche immune dal peccato ed ora mio sciocchissimo saggio vorrei che tu mi esternassi tutti gli affanni che notte e giorno tormentano il tuo animo e facessi un bel mucchio di tutti i tuoi guai alla fine capiresti quanti gravi mali ho risparmiato ai miei folli aggiungi che non solo vivono in perpetua letizia scherzando canterellando ridendo ma offrono anche a tutti gli altri dovunque vadano motivi di piacere scherzo divertimento e riso come se la benevolenza divina proprio a questo li avesse votati a rallegrare la tristezza della vita umana perciò mentre gli uomini provano caso per caso sentimenti diversi verso i loro simili nei confronti di questi pazzi nutrono senza eccezione sentimenti amichevoli li vanno a cercare li nutrono li stringono in una sorta di caldo abbraccio e all'occorrenza li soccorrono non tenendo in nessun conto quanto possono dire o fare nessuno desidera fargli del male persino le bestie feroci li risparmiano istintivamente consapevoli della loro innocenza infatti sono davvero sacri agli dèi e a me in particolare perciò a buon diritto sono da tutti onorati grandi re tanto se ne dilettano che alcuni di loro nemmeno per un'ora possono farne a meno né a tavola né a passeggio non di poco preferiscono questi buffoni agli austeri filosofi che tuttavia sono soliti mantenere per ragioni di prestigio perché poi li preferiscano non mi sembra un mistero né deve destare stupore quei saggi per i principi sono solo apportatori di tristezza talora affidando nella loro dottrina non si peritano di sfiorare quelle orecchie delicate con qualche pungente verità i buffoni invece offrono ai principi la sola cosa che questi desiderano con tutta l'anima delizie come passatempo scherzi risate divertimenti e non dimenticate anche questa non trascurabile dote dei folli solo loro sono schietti e veritieri e che c'è mai di più lodevole della verità anche se in platone un detto dal cibiade attribuisce la verità al vino e ai fanciulli si tratta tuttavia di un elogio che in assoluto spetta soprattutto a me ne fa fede euripide che a me si riferisce col celebre detto il folle dice cose folli il folle porta scritto in faccia e traduce in parole tutto quanto ha nel cuore i saggi invece sempre seconde euripide hanno due linguaggi quello della verità e quello dell'opportunismo è loro caratteristica mutare il nero in bianco spirando dalla medesima bocca ora il freddo ora il caldo avendo in fondo al cuore tutt'altro da quello che dicono nei loro artefatti discorsi nella loro fortuna i principi a me sembrano sotto questo rispetto molto sfortunati non hanno nessuno che dica loro la verità e sono costretti ad avere come amici degli adulatori ma si potrebbe osservare le orecchie dei principi detestano la verità e proprio per questo rifuggono dai saggi nel timore che qualcuno di lingua più sciolta osi dire cose vere piuttosto che gradevoli così è il re non amano la verità tuttavia proprio questo si volge mirabilmente in vantaggio per i miei folli da loro si ascoltano con piacere non solo la verità ma anche in dubbi e insolenze a tal punto che la stessa cosa detta da un sapiente gli frutterebbe la morte detta da un buffone diverte il signore oltre ogni dire la verità infatti ha un non so quale schietta capacità di piacere purché non si accompagna all'intenzione di offendere ma questo è un dono che gli dei hanno elargito ai soli folli sono pressa poco le medesime ragioni per cui le donne più inclini per natura al divertimento e alle frivolezze si trovano di solito tanto bene con un simile genere di uomini perciò qualunque cosa costoro facciano anche se a volte sono cose fin troppo serie le donne tuttavia le volgono in scherzo e gioco abili come sono nel mascherare ogni loro trascorso e gioco